Finché non saliamo, non sono male, per i veri, tassana, si mettono qua, 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 si mettono qua. Buongiorno, sono tante mamme qua, probabilmente qua al Comune di Catania, che discutono questa vergognosa situazione, perché qua ci stanno privando anche del diritto allo studio dei nostri figli e dell'assistenza che i nostri figli fino ad oggi hanno sempre avuto. Purtroppo è stato sospeso il servizio, stanno giustamente, siamo in ciovero e siamo qua davanti al Comune di Catania per protestare su questa negligenza e per un intervento immediato nel sbloccare questa situazione. Quindi, per favore, chiediamo a chi di dovere, a chi è di competenza, di sbloccare immediatamente questo servizio, perché ci sono anche bimbi in scuola dell'obbligo e nel mio caso anche un bimbo H che segue questo istituto. Quindi siamo disposti e non ci arrenderemo, non ci fermeremo e non permetteremo né chiusure di questo istituto e non permetteremo mai, neanche più, una sospensione del servizio. Signora, buona la DIVOS. Sì. Si può bene.